Non ci può essere un rilancio della Calabria senza l'avvio di grandi opere. Lo ha ripetuto nei mesi scorsi il ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio. Lo ribadisce oggi il presidente della regione Mario Oliverio. La regione sarebbe lavorando a una lista di 10 opere strategiche che una volta a regime dovrebbero permettere l'assunzione di 1.500 persone e un investimento sul territorio pari a un miliardo di euro. Ma la crescita non si fa solo con le grandi opere. Ci sono 5 miliardi di fondi derivanti dal patto per il sud che la nostra regione dovrà spendere bene. Pena la perdita dell'ennesimo treno, forse l'ultimo per il recupero del gap con le regioni del nord. Con il patto per il sud si pianificano interventi per 4,9 miliardi a cui si aggiungono le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e quelle dei PON nazionali. Una volta rese disponibili le risorse bisognerà però confrontarsi con la tempistica e il patto di stabilità interno. La seduta del Cipe del 10 agosto scorso ha sbloccato dopo quasi un decennio i primi 18 chilometri del macrolotto della statale a 106 tra Sibari e Roseto Capospulico. Un investimento da 277 milioni di euro. Per quanto riguarda il cronoprogramma la ragione dovrà puntare a rispettare gli accordi presi con il governo. Fondamentale il completamento della diga del menta che impegnerà 25 milioni di euro di risorse Cipe. I tempi di realizzazione previste sono meno di 600 giorni. Loredana colloca per la Cineus 24.